Ciao! Amici, ricordi che buonasera! Allora, guarda quanto gente, io vado a fare un giro, stiamo a un po' Anche io vado a fare un giro! Grazie! Trovato! Trovato! Allora, come stai? Ciao, ciao, mamma guarda quelli diversi e rimane! Trovato! Ma guarda che cosa hanno fatto! Nooo... Aspetta, fammi vedere. Aspetta, questa cosa mi piace un sacco. Sì Grazie a tutti